Ha fatto un volo di oltre 5 metri Fabio Monaco, morto nell'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba a Taranto. Aveva 55 anni, l'uomo originario di Palagiano. Era a bordo della sua auto, una Ford Ka, quando intorno alle 4 del mattino è uscito fuoristrada, sfondando la ringhiera protettiva e precipitando giù dal cavalcavia, porta di ingresso e di uscita della città. Immediati soccorsi, giunti a quanto pare dal distaccamento del porto, ma non hanno potuto fare nulla, l'uomo sarebbe deceduto sul colpo. Oltre al 118 sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e i vigili del fuoco che hanno provveduto poi a sgomberare la carreggiata. Stando a una prima ricostruzione, l'automobilista stava percorrendo il viadotto della rotatoria denominata Ponte della Croce, dal nome del quartiere in prossimità dei tamburi. Poi, forse un malore oppure un colpo di sonno e il 55enne ha perso il controllo dell'auto, precipitando sulla strada sottostante e finendo contro il muro laterale del sottopasso. Il cavalcavia collega Taranto alle statali 106 per Reggio Calabria e statale 100 per Massafra.